Il giorno più importante per Varano dei Menegari è arrivato con il terzo appuntamento del CIV Classic, il giorno delle gare. Finalmente i piloti dopo aver forzato l'andatura nel corso delle doppi turni di qualifica, oggi avranno l'opportunità di stilare sul percorso di gara quello che è la loro abilità agonistica. Qualcuno sicuramente non sarà soddisfatto del risultato, ma tanti altri andranno a sorridere perché andranno a calcare il podio. E intanto andiamo a vedere come stanno andando le cose al Riccardo Paletti di Varano dei Menegari. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!